Non avrebbe dovuto abbandonare come da linee guida la sorveglianza costante della paziente né avrebbe dovuto trascurare il particolare della mancata apertura della porta della stanza in cui la donna era ricoverata dove è deceduta. Una vicenda surreale quella che vede protagonista un infermiere di 44 anni della Vale del Sagittario attualmente in servizio presso l'ospedale di Sulmona ma all'epoca dei fatti, il 3 novembre 2020, distanza presso il G8 Covid dell'ospedale dell'Aquila. All'uomo nelle scorse settimane gli è stato notificato l'avviso di chiusura delle indagini preliminari da parte della procura della Repubblica dell'Aquila. Risulta indagato nonché sotto inchiesta con la pesante accusa di omicidio colposo, ma andiamo con ordine. Una paziente, donna peruviana di 65 anni, era stata ricoverata nell'ospedale Aquilano il 17 ottobre 2020 dove aver contratto il coronavirus. Dalla cartella clinica acquisita sequestrata dagli investigatori si evince che la stessa aveva presentato lievi segnali di miglioramento nonostante il quadro clinico critico fino al giorno stesso del decesso. Improvvisamente quel 3 novembre la respirazione della paziente si è resa critica, di cui la corsa degli infermieri per avvisare il personale medico chiudendo la porta della stanza di degenza è rimasta bloccata per 15 minuti. Quando i sanitari hanno raggiunto la stanza non c'era più nulla da fare, la donna era deceduta. Per sbloccare quella maledetta porta si è reso necessario l'intervento di un tecnico. L'inchiesta è scaturita dalla denuncia dei familiari della donna che ha portato la procura del capoluogo unitamente alle forze dell'ordine a esperire tutti gli accertamenti del caso. L'infermiere sarebbe quindi finito sotto la lente della magistratura per aver violato l'obbligo della vigilanza della paziente ricoverata in terapia intensiva. Una storia che ha dell'incredibile visto che il blocco della porta fa emergere un problema di manutenzione o comunque di natura tecnica e non certamente sanitaria come rimarcato dalla difesa del 44enne. La procura dovrà decidere se chiedere l'archiviazione del procedimento al GIP o il rinvia giudizio al GUP mentre toccherà l'avvocato Alessandro Scelli smontare il castello accusatorio per far emergere la totale estranità dei fatti del suo assistito. Controlli a tappeto di carattere preventivo per debellare la detenzione, lo spaccio di sostanze stupefacenti. 15 persone per lo più giovani saranno segnalate al prefetto dell'Aquila in base all'articolo 75 del testo unico degli stupefacenti al termine delle operazioni di controllo del territorio che si sono svolte nella giornata di ieri una città abbattuta palmo su palmo. I carabinieri della stazione di Sulmona, coadiuvati dal nucleo cinofili di Chieti, hanno passato a setaccio le zone a rischio del territorio comunale più esposte alla recrudescenza del fenomeno e cosiddetti luoghi di spaccio. Il parcheggio di Santa Chiara, i giardini di via Retogliatti, nei pressi degli edifici scolastici, la villa comunale, via Freda. Il fiuto delle unità cinofili ha portato i militari a segnalare una quindicina di persone alla prefettura dell'Aquila come assuntori abituali. Un dato parziale che va sommato ai numeri già in cassaforti al consuntivo che arriverà nei prossimi giorni. I controlli avviati nei giorni scorsi proseguiranno nelle prossime ore per agire sul fronte della prevenzione e arrivare ai potenziali spacciatori. E di due feriti, di cui uno con prognosi superiore a 20 giorni, il bilancio dell'aggressione che si è verificata intorno alle 13.30 di oggi nei pressi dell'Iceo Mazzara, in ospedale sono finiti un 19enne che avrebbe riferito di essere stato aggredito da un uomo adulto e un 52enne che si è fatto refertare nel pomeriggio di ieri. Al primo sarebbe stato applicato un tutore dopo la consulenza ortopedica per la lussuazione di una spalla giudicata guaribile in 21 giorni, a differenza di quanto si era appreso in precedenza, mentre l'altro avrebbe rimediato un trauma cranico, ferite alla mano sinistra, abbandonando il nosocomio prima della visita medica. Solo nella scorsa settimana proprio alcuni giovani di origine rom si erano resi protagonisti di una brutale aggressione nei portici della Trinità. Tre due tuttavia, contrariamente a quanto era emerso nelle prime informazioni, potrebbe esserci un legame di conoscenza. Alcuni avventori hanno riferito che il 19enne sarebbe stato picchiato con una serie di pugni mentre attendeva un amico nei pressi del liceo, non a caso avuto la peggio. Dalle diagnosi tuttavia non si può escludere una colluttazione, visto che il 52enne avrebbe dichiarato di essere stato a sua volta aggredito. Entrambi all'esilo di raccertamenti sono stati dimessi, mentre ha preso il via d'ufficio l'indagine per la prognosi superiore a 20 giorni del ragazzo senza necessità di querela di parte. Il CDA è stato costituito di recente, ma la Vale Pelini appunta alla vicepresidenza della tua. L'ipotesi rimpasto è del tutto improbabile per gli addetti lavori, ma non è da scartare per Lorenzo Fusco, esponente di Forza Italia. Non c'è nulla di ufficiale al momento, resta un'ipotesi, ha dichiarato il diretto interessato raggiunto telefonicamente da questa testata. I suoi rapporti politici con l'attuale presidente, nonché ex sindaco di Avezzano, Gabriele Di Angelis, sono ben noti. In caso di assunzione dell'incarico Fusco avrebbe peraltro una grossa patata bollente, ovvero potrebbe diventare il referente delle stanze territoriali. Dopo la riduzione delle corse verso la capitale, soprattutto nel fine settimana, in un recente incontro con la considera regionale Marianna Scoccia, De Angelis aveva annunciato l'impossibilità di tornare alle corse pre-pandemia e l'acquisto di due treni sulla tratta ferroviaria sul Monaroma, una compensazione che non lascia soddisfatti gli utenti. Tuttavia l'ipotesi del rimpasto, come detto, non è al momento contemplata, almeno non nell'immediatezza. Hanno spostato i masteri della differenziata, distrutti dalle fiamme sul suolo pubblico, i residenti di Via 25 Aprile non molano la presa per il prossimo 5 ottobre. Hanno strappato un nuovo incontro a Palazzo San Francesco per chiedere contezza delle interventi attesi nei quartieri, nonché dei preventivi al vaglio dell'ente richiesti per l'installazione delle telecamere di videosorveglianza. Non andranno a mani vuote, ma con una diffida stragiudiziale diretta al comune di Sulmona per i fenomeni degli atti incendiali e per i furti in abitazione. Dopo anni di continue preoccupazioni richieste, gli abitanti del trilatero della cronaca appuntano al risarcimento danni per i mancati interventi su fronte del contrasto al degrado urbano che a loro dire potrebbe allentare la microcriminalità. Abbiamo provveduto noi, e non comune o ater, a rimuovere i bidoni bruciati dall'incendio dell'auto, giacenti sui box, creando ingombro, pericolo e ricettacolo di sporcizia. Ora giacciono su suolo comunale. Attendiamo risposte, tuonano i residenti. Qualcosa dopo il sopralluogo dello scorso 8 agosto si è mosso, dalla rimozione dei rifiuti ventennali all'intervento sull'illuminazione pubblica e la messa in sicurezza dei lampioni. La seconda puntata però andresce nel 5 ottobre a Palazzo San Francesco, dove i residenti si presenteranno anche sotto forma di associazione di inquilinato che è in corso di definizione. Missionari e seminaristi nei luoghi della Movida. Inizierà il 25 settembre la settimana di evangelizzazione che vedrà protagonista la città di Sulmona e alcune parrocchie di essa, a promuovere l'iniziativa di missione Vescovo Fusco che accogliendo il seminario regionale abruzzese molisano, compreso di 23 seminaristi e tre educatori, tra i quali il rettore Doluigi Ciprimiano, esprime la sua gioia e incoraggia i giovani a essere annunciatori del Vangelo verso i loro coetanei. Ricordatevi cari ragazzi che annunciare il Vangelo significa annunciare buona novella, dichiarato il presule. Tante le iniziative che caratterizzeranno questa settimana e che si andranno a svolgere. La visita nelle scuole secondarie di secondo grado di Sulmona e Prato la Peligna, la visita agli ammalati, alle famiglie, l'animazione presso gli oratori cittadini, aperitivi e cene a tema, cercando di coinvolgere il più possibile giovani e famiglie. Il tutto accompagnato dall'icona evangelica delle sorelle Marte e Maria, amiche di Gesù, il quale accogliendo nella loro casa scelgono di vivere la parte migliore legata all'ascolto della parola. Conclusione di questa settimana, sabato 1 ottobre, l'esperienza di una luce della notte in cui, presso il corso video, i missionari saranno impegnati ad annunciare il Vangelo, accompagnare a un momento di riflessione nella chiesa della Santissima Annunziata, nel cuore della Movida che ultimamente è tornata a citare il sabato sera con aggressioni per futili motivi. Una luce vera e propria domenica d'ottobre. Infine, a conclusione della settimana, si avrà il vero inizio da parte delle parrocchie coinvolte a camminare con uno spirito nuovo e missionario. Le parrocchie parrici coinvolti, vale a dire Santa Maria della Tomba, Cristo Re, Badia Moronese, il centro storico della città, saranno luogo nevralgico dell'attività di evangelizzazione. Una interessante iniziativa ideata dai giovani organizzatori del premio Sulmona, 49esima edizione, la cui inaugurazione si terrà sabato 24 settembre. Un contest fotografico sul premio, cioè sarà premiata la migliore fotografia. Il contest consiste nel fotografare sia le opere esposte all'interno della mostra che i luoghi del premio, con qualsiasi mezzo adatto allo scopo, sia esso a strezzatura fotografica o cellulare, in forma digitale, preferibilmente i pg. Sulle opere fotografiche realizzate non dovranno essersi firme o altri segni distintivi. La foto deve pervenire all'indirizzo email contestfotografico.psgmail.com entro le ore 0 del 10 ottobre del 2022, con oggetto contest.ps, specificando nel corpo della mail nome e cognome del partecipante, capito telefonico e indirizzo email, eventuale titolo dato alla foto, attrezzature fotografica utilizzate, cioè macchina fotografica digitale, analogica o telefono cellulare, specificando il modello. La miglior foto giudicata da apposita giuria sarà premiata il 15 ottobre alla cerimonia di conclusione del premio Sulmona.